ciao benvenuti a cazzeggio catabiotico ciao benvenuti a un altro episodio di cazzeggio catabiotico in questa puntatona di retrocomputing parleremo del mercatino dell'usato di Marzaglia il paradiso del retrocomputer e del retrogaming iniziamo dall'ABC cos'è il mercatino di Marzaglia? è la più famosa e frequentata fiera dell'usato dell'elettronica in generale si svolge all'aperto con in media oltre 5.000 espositori la fiera ha sede nei prezzi di Modena fu iniziata da radioamatori, oggi gestita dall'ARI di Modena quando c'è il mercatino di Marzaglia è organizzato due volte l'anno, covid permettendo solidamente a maggio e settembre ma per maggiori informazioni se siete interessati restate sintonizzati sul sito indicato che cosa si trova nel mercatino di Marzaglia? di tutto e il mercato dell'usato dall'elettronica per radioamatori alla retrocomputing al retrogaming con computer desktop tover seconda e terza mano a volte funzionanti a volte no Commodore, Apple, MSX, Atari, Olivetti, IBM, PET stampanti, monitor, televisori, amplificatori, casse, videogiochi cartucce per videogiochi, periferica di archiviazione e quant'altro un hardware eterogeneo con tantissimo materiale nell'usato sia per il retrocomputing sia per il retrogaming in descrizione di questo podcast il link al website di Marzaglia dell'associazione che cura il mercatone di Marzaglia quanto i links del blog curati da appassionati di retrocomputing da cui sono state estratte queste foto un saluto ciao alla prossima